Oggi parte la prima linea turistica regolare della compagnia del gruppo FS dedicata proprio al turismo. FS Treni Turistici Italiani mette in linea il suo primo espresso notturno denominato Cadore. Parte da Roma Termini alle 21.40 e alle 8 della mattina arriva a Calalzo, termine della rete. Da lì un organizzato sistema di bus porterà in 45 minuti a sciare sulla Concampezzana. A bordo una serie di servizi oramai scomparsi dai nostri treni. La carrozza ristorante con la cena servita al posto in due turni, il vagone letto in singolo e in doppio, le cucette a 4 o 6 posti per le famiglie e il bagagliaio, il bagagliaio dove si potrà riporre ogni tipo di effetto che si porta con sé. Ad esempio pensiamo alle bici elettriche, agli sci oppure la tenda. Ecco, è un modo nuovo di umanizzare il treno e io direi di fare iniziare la vacanza e facendo coincidere l'inizio della vacanza con l'inizio del viaggio. Ci siamo tutti. È un momento importante perché facciamo partire questa sera il primo treno della nuova società Treni Turistici Italiani, rispolverando un collegamento Roma-Cortina via Calalzo e quindi siamo molto contenti perché è l'inizio di questa nuova avventura che porterà i nostri treni, quelli storici, quelli meno moderni ma adatti a fare un turismo lento a riscoprire le bellezze del nostro paese. Grazie.